Ieri sera su Telegram, visionando un canale che tratta di diete chetogeniche, mi sono imbattuto in alcuni commenti contrariati di alcuni vegani e vegetariani, devo dire nella maggior parte dei casi donne, ma non voglio accusare nessuno. In questi commenti si inveiga addirittura contro coloro che per motivi puramente culinari sacrificano animali per cibarsi. Mi sono permesso di interagire con alcuni di essi o alcune. E apriti cielo, mi sono preso anche addirittura degli insulti solo per il fatto di aver detto che la carne per me è irrinunciabile, cioè che fa parte dell'alimentazione umana. Credo poi che ognuno è libero di cibarsi come vuole e quindi anche di morire come meglio crede fino a prova contraria. Però vorrei fare un'osservazione a tutti costoro. Perché non protestano adesso che sono state approvate le farine di insetti e miliardi di questi piccoli animaletti, tra cui il più simpatico, il grillo, il quale mi ricorda la mia infanzia in campagna, verranno allevati e sacrificati. Nessuno di essi fa sentire la sua voce in loro difesa. In fondo essi, cioè questi piccoli animaletti, fanno parte dell'ecosistema animale. Non mi si venga poi a dire che sono animali che vengono allevati in cattività, quindi non danneggiano l'ecosistema, perché anche i bovini, per esempio, i maiali, i polli sono allevati in cattività. Quindi il discorso è sempre lo stesso. C'è sempre un sacrificio di qualche animale. E ve lo dico io il perché questi non scendono in piazza, questi vegani, animalisti, vegetariani. Perché dietro al vegetarianesimo o al veganismo o veganesimo, ci sono organizzazioni internazionali che vogliono spingere l'uomo a privarsi di proteine animali per indebolirlo e a farci naturalmente mangiare le farine d'insetti che ci faranno ammalare o vi faranno ammalare in brevissimo tempo. Voglio fare anche un'altra considerazione a costoro sempre. Perché la cucina vegana o vegetariana in moltissimi casi cerca, con prodotti vegetali, di imitare piatti proteici animali, tipo salsicce vegane, bistecche vegane, polpettine vegane, latte vegano, cotolette vegane, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non ha proprio nessun senso per costoro. Oppure penso che un senso ce l'ha. Vorrebbero mangiare la carne, ecco perché imitano piatti proteici animali. Ma mentalmente credo che ormai fanno parte di sette o psicosette perché ricordiamoci che dietro a queste mode, come tante altre mode, come il femminismo, i moti studenteschi, il patriarcato, ci sono poteri satanici, i soliti poteri che si sono rivelati apertamente dal 2020 in poi. Grazie.